ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi come potete vedere ci troviamo su roblox nelle backrooms non fate caso alla skin da nabbo perché mi sono appena ristallato sul nuovo telefono roblox e iniziamo allora ok allora se non mi ricordo male dobbiamo prendere queste cose gialle e scappare dai mostri tanto ora ci divento io un mostro quindi allora impostiamoci la sua vita tra un po' quando abbiamo più spazio che cos'è questo prendiamo questo ok ce ne sono moltissime prendiamo questo e la miseria no sono morto sono morto però ora abbiamo il tempo di scegliere la morf che vogliamo allora quale scelgo la morf più bella scelgo questa che cos'è a un gabinetto se non erro ma sono un gabinetto ciao sono il tuo gabinato non fare le tue bisogni su di me non fare i tuoi bisogni su di me ti prego non fare i tuoi bisogni su di me e vabbè però così è un po' volgare come cammino vabbè andiamo a prendere questo e vediamo cosa c'è di qua cambiamo morf l'edmoor non so bene l'inglese allora 1426 morf oh miseria cia ok si però gabinetto per piacere non camminare così e cambiamo skin quale metto quale metto quale metto allora ma non c'è proprio tipo un riparto per quelle che io ho guadagnato no magari alla fine c'è proprio l'edmoor oh si 1426 morf se io come faccio a prendere tutti questi morf e la cosa bella è dove sono le morfs che io ho guadagnato questa è la vera domanda dove sono le morfs che io ho guadagnato tipo allora quelli con scritte bui vai non lo so come si legge non sono oddio che casino non sono le morfs che abbiamo guadagnato siamo riusciti a cambiare skin ma non è una delle migliori vabbè però almeno l'abbiamo cambiata quella lì era un po' troppo come dire volgare allora io andrei proprio di qua e prendiamo questa chiave va bene fino qua ci siamo ah ok devo andare qui cosa è successo ah madonna mia madonna mia madonna mia ora vado qui cavolo ragazzi quel coso ora sbucherà da qualche parte qui sotto secondo me sbucca da qua madonna mia oddio questo coso si può arrampicare raga sto coso è proprio inquietante sì però qua ci sono delle morse mamma mia quando è su e ho capito mamma tutte quelle morse che sono avanzate siamo tutte queste morse io che ci devo fare cioè io con tutte quelle morse che ci devo fare come faccio a prendere tutte quelle morse ah un codice mi sa che va inserito qui nello shop no nei codi 0242 0242 0242 vediamo se esce qualcosa ti prego sì no wrong cod no non è successo nulla quindi a che mi serve mi serve così a caso tanto per ragazzi stavo anche morendo un po' e sono morto ragazzi stavo anche morendo un po' non mi seguire che paura ragazzi siamo riusciti a prendere tutte le morse ora cambiamo morse ok e mettiamoci questa che cosa è non si vede ecco che cosa sei ah una zeta mi è uscita vabbè un peluche mi sa che questo cosa gigante non credo che passi qui dentro scusa ma sei troppo gigante ecco ci proviamo un altro pochino dopo di che ci arrendiamo e scegliamo o rimettiamo la skin normale oppure cambiamo boh vediamo alla fine ho rimesso la skin normale allora sono morto mi ha ucciso per ora ci riprovo ok no no non mi baggare non mi non mi di baggare invece c'è qualcuno ok sì lui l'ho presa sì lui l'ho presa ok ora devo vedere quale tra queste parti si apre questa no mi sa la rossa questa no si è per forza la rossa ok oddio ce ne stava un'altra qui dentro prendiamola ok ora ho preso letteralmente tutto no come faccio a risalire lì sopra c'è un qualcosa sì non manca prendiamoci questo l'ho presa ok ora ma che servono questi giochi ci possiamo giocare oh no che è successo oddio mio sono morto no non sarò mica morto quel gioco quindi ti uccide ma io pensavo che ci potessi più riproviamo ti proprio uccide ti manda via dal mondo vabbè e allora non saprei ragazzi sono entrato qui voi non potete capire cosa è successo io stavo camminando a un certo punto mi sono ritrovata una skin che ho sbloccato solo camminando cioè camminando si sbloccano le skin ma allora vediamo un poco e già qui c'è una skin come sempre ci sono troppe skin 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 però alcune sono carine che di skin l'altro c'è no 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 mi si è pure ingrandita la schermata io non riesco a camminare così solo così ecco andiamo di qua di qua di qua che c'è ma non è che di qua ci sta ah no un altro ah no pezzo no questo qua è un altro non ci credo un altro un altro ancora ma quanti c'è ci stanno c'è un sacco di cessi un altro ancora e vabbè però non vincono più stanno i personaggi e stanno il cesso oddio no 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 c'è una nonna cara non è una nonna però vabbè è tipo granny peppa pig quindi nonna peppa pig per favore lasciami in pace oh che c'è qui perché nonna granny non l'hanno messa in questo gioco delle backhomes piacerebbe a tutti essere nonna granny per una volta anche se esistono dei bug per diventare nonna granny se volete faccio un video su quello proprio dei bug che voi giocate e siete granny al posto di il tizio che scappa il nipote che scappa stavo dicendo comunque vabbè allora vediamo di qua si va oddio mi confondo perché ci sono così tanti mostri che sembra un orto di mostri ok ok andiamo qui ci stanno i teletrasporti che scemo che sono allora andiamo qui no andiamo qui che cavolo vabbè allora di qui sono già state e andiamo di qui no proprio all'entrata dovevi stare proprio ad aspettarmi perché nonna granny cioè nonna pig sapeva che io stavo andando lì li sto prendendo tutti e mi ha ucciso un'altra volta ma nonna pig ma ti fai un po' i fatti tuoi un po' i fatti tuoi no eh allora teletrasporto vediamo che teletrasporti ci stanno io li stavo facendo uno alla volta quindi preferisco continuare a fare nemmeno uno alla volta quindi ritorniamo ecco io preferisco farli sempre uno alla volta anche se non ho ancora capito a cosa serve questo codice però vabbè qui sotto la scala ci sta qualcosa sta qualcosa sotto la scala ma nonna granny si è tipo buggata fortunatamente qui avevo l'opportunità di ok andari qui bene allora no 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 e dai però ma tu lo fai apposta allora ci andiamo dopo da nonna granny da nonna picca perché dico nonna granny vabbè stanno la stia cosa c'è sto migliacrando allora adesso ci andiamo un'altra volta voglio prendere altri morps qui che c'è? ah ho capito che c'è qui sempre tanti morps si possono prendere pure qui solo che pure lui ti incorre con una mazza e ti fa molto male io entro qui dentro così non mi fai fesso ora dobbiamo risolvere questo ok 2 più 2 2 più 12 non so manco più leggere va bene fa 14 6 più 6 allora si fa prima 6 diviso 2 penso che il slash sarebbe 2 diviso volevo dire quindi 6 diviso 2 fa 3 più no aspetta più 6 3 più 6 vabbè 9 ok fa 9 teoricamente vediamo ok che come faccio a risolvere questa cosa? se tu veramente mi poni un enigma così difficile ma sei scemo no cioè come si fa a risolvere una roba del genere ci starò fino a domani mattina no allora prendiamo la chiave blu prendiamo questo un altro giorno lo faccio con la calcolatrice ok andiamo qui sono all'angolo quindi se quel tizio viene mi fotte per sempre evidentemente qualcuno l'ha ucciso perché qua si possono avere pure le armi per uccidere questi tizi oh c'è un altro fatto qui pure nei quadri si può saltare quindi meglio così meglio così bene prendiamo questa chiave ora andiamo subito corriamo qui immediatamente che cavolo è questo che mi amo ciao hello what you want ho paura ok e mo ci fa tipo qualche cosa ah c'è semplicemente dato un altro cesso no vabbè c'è un altro ok ok e non ci credo ma tu sei di tutte le parti cosa brutta che vuoi non ci credo mi ha ucciso pure lui ci voleva pure lui no muo uccide no no ritele e non ci vediamo ritele trasportiamoci io non me ne vado finché non termino questa zona andiamo qui sotto andiamo qui sotto grazie andiamo sotto andiamo pegliamo sto cosa pegliamo sto cosa scappiamo 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 adesso andiamo da nonna pig e andiamo sopra utilizziamo questa chiave blu per aprire qui prendiamo questo che cos'è il fratellino poi qui che c'era ok cosa c'è qui sotto tutto a posto e no però qui ci serve la mazza cioè il martello volevo dire e allora non lo possiamo prendere sto cosa riteletrasportiamoci no no pensavo che stavo dritto vabbè andiamo qui e prendiamo questo coso questo martello dai 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 allora sbrighiamoci pronti con il martello nonna te lo tiro in testa nonna pig ok preso vieni con me ah no c'è pure questo preso ma ora ma ora da qui si può salire no mi sa di proprio no e allora ci riteletrasportiamo fuori andiamo di qua e vediamo cos'altro ci manca da prendere allora no no ma sta nonna è più veloce di noi e la faccia no vabbè sta nonna sta da tutte le parti è proprio insopportabile no è proprio insopportabile sta nonna sta da tutte le parti cioè ma ci vuoi lasciare un po' in pace nonna noi abbiamo una vita privata cioè noi siamo soltanto qui per prendere qualche morps non per stare a scommattere con te che è chiaro mi sa che ha capito proprio la lezione che brava questa nonna che abbiamo una nonna bravissima grazie nonna che ci lasci in pace però funziona parlare con le nonne questa nonna del cavolo sta proprio sempre in mezzo a scocciare oddio sta sempre a scocciare questa nonna questa nonna è proprio cattiva nonna sei una cattiva nonna un altro cesso ma io non ci credo no mi sono bloccato mi sono bloccato e sei ingrandita pure la schermata qua ti prego dimmi che posso entrare nel quadro ti prego ah mi muovo quella chiave vabbè e ora la riutilizzo la chiave saliamo sopra saliamo sopra saliamo sopra allora vabbè la chiave non la posso ridere ok adesso andiamo fuori e riprendiamo il martello ho deciso di deletrasportarmi perché secondo me la nonna ci avrebbe scendendo anche se era a due passi ok utilizziamo il martello per nonna giuro che ti faccio fuori se ti avvicini un'altra volta a me ok siamo fuori siamo fuori siamo fuori allora andiamo di qua è sparita no 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 sire vabbè ragazzi per oggi è tutto noi ci salutiamo e ci vediamo in il nuovissimo video scrivetelo nei commenti se volete un altro diciamo il continuo di questo video noi ci salutiamo e ci vediamo in il nuovissimo video e un'altra cosa voglio dirvi che se lasciate tanti like io farò un video su come diventare Granny noi ci salutiamo e ci vediamo in un nuovissimo video ciao